Oggi siamo qua in questa bellissima location della Galleria Alberoni, Sala degli Arazzi. È il secondo giorno e oggi suoneremo una sonorizzazione a cura mia dell'orchestra Susa Phonics di questo film straordinario del 1925 che si titola Seven Changes. Siamo molto contenti perché è un'esperienza molto bella perché è anche l'occasione di vedere una cosa come si faceva negli anni venti, negli anni trenta, un'orchestra che suona sotto durante la proiezione di un film, quindi cosa posso dire? Comunque guardate l'orchestra, è pronta, è entusiasta, guardate qua, i musicisti, fai il primo piano. L'orchestra freme, freme, freme. Cosa posso dire? Non si dice bocca al lupo, la balena e niente, speriamo che vada tutto bene. Allora ecco voi, i Susa Phonics, grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti